ciao da mister helmet molto difficile c'è un'intervista a Mimmo Schiattarella alle sue spalle c'è un uomo che si aggira guardate e ascoltate cosa sta per dire mi invita a fare questa manifestazione è il motivo per me per portare qua gli sponsor però poi si è reso conto direi che vale la pena di riapprezzare questa sequenza eccolo lì chissà la moglie se è a casa lo faccio volentieri perché il Ferrari Club Italia mi invita a fare questa manifestazione è il motivo per me per portare qua gli sponsor ops fa ridere questo video è un'uscita ad altri tempi fatta da un personaggio Gianni Giudici che chi lo conosce sa quanto sia fuori dalle righe con modi spicci chiedeva un po' di colore per il podio erano altri tempi si facevano un sacco di cose senza pensare nel bene o nel male ma anche tante meno seghe mentali sentite che poesia però la questione è seria davvero e non si può ridurla a semplice desiderio di se ti piace tutto questo iscriviti al canale attiva le notifiche e scopri come supportare Mr. Helmet attraverso le donazioni lo shop gli abbonamenti un blog libero e indipendente andiamo per gradi ci tolgono le ombrelline ok ma andiamo per gradi tutti noi abbiamo fra i nostri amici quello fissato che parla sempre sempre di che non ha nient'altro in testa e parla solo della stessa cosa tutto il tempo monotematico simpatico però dopo un po' uno pensa sia malato e non va bene è un problema perché tratta le donne come oggetti e l'aspetto sessuale passivo come parte principale della vita che non è solo quello e soprattutto della donna che non è diciamo così solo il suo involucro è molto di più chiaramente poi c'è invece quello che ti fa paura per il motivo opposto non ne parla mai e sembra quasi spaventato inibito quasi fobico al contrario quello che è infastidito da tutto quello che è inerente quella sfera lì ok due che si baciano una ragazza che voglio dire scollacciata troppo disinibita e non va bene nemmeno nemmeno quello è un altro problema su questa base dobbiamo parlare della novità del racing che praticamente prevede che dal 2023 nelle corsi di motociclismo vogliono toglierci le ombrelline e vista così superando il momento maschilista da motociclista intutato con la birra in mano o da ragazzetto bimbo minchia che va a Eichmann nella speranza di strofinarsi con le modelle sembrerebbe anche una cosa giusta ed evoluta e invece è un problema se la necessità è evolversi allora è giusto smettere di strumentalizzare la donna se non vuole e di questo ne possiamo parlare è giusto e dovremo anche crescere però dovrebbero iniziare i giornali che sono ancora degli insuperabili morti di con i loro video sulle ragazze di EICMA o della MotoGP fatti apposta per fomentare quattro allupati come loro e raccogliere qualche click ultimamente per fare meno la figura dei poveretti ci hanno aggiunto una notizia tipo guardate quanto si guadagna a fare la hostess e roba simile rimanete dei disperati a chiappa click e vi rivolgete alla peggiore ricotta del web il problema è che mentre il pubblico non ha colpe perché certe cose se le trova davanti la stalpa una colpa ce l'ha perché certe schifezze le produce ma allora mister Helmet non piacciono le ragazze mister Helmet è contro la certo che gli piacciono ma le preferisco come parte del contesto non come ragione del contesto stesso un contesto è fatto di diversi elementi armonizzati fra loro non di esasperazioni che non stanno insieme la chiave è il contesto parliamo del contesto racing e apriamo google cercando moto gp paddock che è fatto di rumore di colore di moto di sponsor e una foto ogni tanto parla di girls fra l'altro molte ed orna ad inserirle e quindi spesso proprio le più audaci quindi se andate a una fiera di bodybuilding scoprite voglio dire un'altra cosa cioè voi andate nel paddock e scoprite che è l'applicazione di quello che ama e del modo in cui vive il pubblico dei motori è un insieme incomprensibile per chi non è interessato ma perfetto per chi ama un determinato mondo c'è di tutto ok andate a una fiera di bodybuilding dicevo bodybuilding expo digitate bodybuilding expo su google e trovate un certo tipo di persone e di cose per voi incomprensibili ad una fiera di armi da fuoco digitate weapons di persone e altre esagerazioni che magari non riuscite a condividere ad una fiera del sesso sex fair trovate donne nude falli di gomma questa che è aperta a compasso questa cavalluccio cioè ad un evento racing trovate quello che abbiamo detto sopra ad ognuno il suo contesto in nome della educazione e della crescita morale ed etica ci hanno tolto gli alcolici guardate qui nastro azzurro e ci hanno tolto il tabacco il tabacco ok quindi alla fine in teoria fanno male e sono diseducative ma chi lo ha deciso gli energy drink fanno bene fino a quando non decideranno che non è così e sono etiche le criptovalute lasciamo perdere io questa cosa non la capisco a casa mia ci sono sempre state 200 bottiglie di liquore perché avevamo ospiti ma io non ho mai bevuto idem per il tabacco ho iniziato a fumare il sigoro a 30 anni vuol dire che è una questione personale bisogna educare le persone non proibire le cose il problema è questo se volete togliere le ragazze e tutto il resto in nome di una evoluzione che non si capisce siete dei bacchettoni dei bigotti insegnate a rispettare le donne e non a farle sparire ma la verità è che Dorna toglie le ragazze vuole togliere le ragazze perché è un'organizzazione di sottoni sottomessi che vuole ridurre il racing ad una cosa fatta di social puttanate influencer nella speranza sfigatissima di sostituire il suo pubblico e nella speranza di compiacere agli stati canaglia in cui va a correre la verità è che Dorna è un'azienda disperata alla canna del gas fatta di conflitti di interesse e gestita come un mini market con il padre al bancone del pane la mamma alla cassa e il figlio al bancone dei salumi ed è messa completamente doggy style la pecorella nei confronti di tutte le dittature doveva a correre e nelle dittature conta l'apparenza non puoi bere alcol e dobbiamo bere quella schifezza alla rosa però poi si fanno sparire quelli che non sono d'accordo le ombrella girls non vanno bene perché la donna deve essere rispettata però la rispetti tutta infagottata così come un burrito che non può guidare ecco la donna nell'islam così non può avere un conto in banca e ci si mette a posto così in certe nazioni allora donna è disposta anche a smentire il suo stesso contesto storico racing le girls devono sparire in nome della modernità però a capo della security la safety commission e Speleta ci mette il nipote e poi si va a correre in nazioni di merda dove se bevi una birra ti arrestano io voglio gli alcolici per decidere di berli o di non berli le sigarette per decidere di fumarle e non fumarle voglio due ragazze con le mammelle gonfie per guardarle o non guardarle e anche due voglio anche due coi baffi che si baciano tipo così così sono fatti loro voglio decidere io cosa fare cosa scegliere voglio anche gli ombrellini maschi bonazzi come quelli che si prende la Carrasco perché le donne li guardino fa bene la Carrasco voglio poter comprare le patatine al gusto al gusto di di fica va bene esistono e non voglio correre nei posti di merda dove si violano i diritti umani questo non voglio non due ragazze in costume consenzienti che spesso parlano più lingue dei giornalisti che ci sono in sala stampa poi insegnerò io a mio nipote che una donna va rispettata e non è che perché ha un ombrellino la puoi molestare o le puoi dare della troia chi non vuole l'alcol il tabacco o le ragazze perché è un bigotto deve andare alla fiera degli abiti boh sacri e sono tutti fatti suoi chi le vuole perché è un depravato è un idiota e spero che scompaglia ma le persone normali hanno diritto di vivere il proprio contesto in maniera normale moderata serena senza paranoie in una direzione o nell'altra i bambini devono essere preservati dagli orrori non dalla mi spiego in sintesi prima di arrabbiarmi perché vanno difese le ombrelline le ombrelline che non sono costrette da nessuno sono l'ultimo baluardo del racing come contesto tradizionale il racing nel suo insieme sono come il rumore di motori la puzza di benzina delle gomme bruciate le salsicce arrosto nel paddock voglio voglio meno sponsor fasulli ladri e più voglio meno moto che non fanno rumore e più voglio meno vecchi di 90 anni vestiti da tirolesi e più voglio meno parenti incompetenti alla guida delle società e più voglio meno seghe mentali e più e più e anche diciamo meno seghe fisiche voglio difendere la nelle corse voglio la nessuno tocchi la nel paddock perché siete voi quelli che pensano male e non funzionano ciao da mister Hermit ho detto gli impatti nel paddock montagne una pioggia di di Grazie a tutti.